Sono state le note di Bach, Mozart e Schumann a risuonare nella Casa della Musica durante l'esibizione del quartetto Ecos. Nasce nel 2003 all'interno del Conservatorio Verdi di Torino dalla passione per la musica da camera che da sempre accomuna i suoi componenti. Grazie all'ispirazione di due professionisti che hanno dedicato al camerismo tutta la loro carriera come Antonio Valentino e Claudio Ravetto, il quartetto cresce e si forma a Torino approfondendo il repertorio quartettistico e non solo. E la Casa della Musica di Arezzo domenica prossima 18 febbraio si aprirà invece ai piccoli musicisti, bambini dai 3 ai 5 anni che potranno in questo Open Day sperimentare il linguaggio musicale. Il corso è basato sulla music learning theory del professor Gordon e questa è una teoria dell'apprendimento musicale abbastanza particolare, ancora sconosciuta ai più perché è approdata in Italia abbastanza recentemente, cioè intorno al 2000 diciamo. E definisce questa teoria dell'apprendimento musicale, intanto spiega come l'individuo apprende la musica da 0 a 99 anni e qual è la maniera migliore per favorire i processi di apprendimento.